La Regione Toscana ha stanziato 7 milioni di euro per coprire la richiesta in crescita di voucher formativi sul territorio e 2 milioni e mezzo per il trasporto scolastico e l'assistenza educativa degli studenti disabili delle scuole superiori. Le novità sono state illustrate dall'assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco a Firenze. I 2 milioni e mezzo per il trasporto degli studenti disabili, ha detto l'assessore, sono stati stanziati per l'anno scolastico 2019-2020 e incrementano di quasi un milione le risorse messe a disposizione nell'anno 2018-2019. La Regione ha deciso di anticipare lo stanziamento per farli arrivare prima agli enti sul territorio, province e città metropolitana. Chiederemo anche al Governo che per l'anno prossimo si faccia uno sforzo per anticipare le risorse statali in modo che insieme alle nostre possano essere ripartite fra le province ed erogate alle province in tempi utili per fare una programmazione efficace. I voucher sono rivolti a disoccupati per 4 milioni di euro, ai professionisti under e over 40 con 1 milione e 800 mila euro nell'ambito del progetto Giovani Sì per l'autonomia dei giovani e agli imprenditori e ai liberi professionisti con 1 milione e 200 mila euro, obiettivo a crescere le competenze professionali da spendere nel mondo del lavoro. È importante non solo che i lavoratori che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro possano riqualificarsi per aumentare l'occupabilità e quindi essere auspicabilmente reintrodotti nel più breve tempo possibile, ma è importante che anche l'imprenditore e anche il professionista si formi per quella che chiamiamo impresa o industria 4.0. Grazie. 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 Grazie.